La sede di Equitalia perché abbiamo la nostra proposta per abolirla, mentre in aula si sta discutendo l'ennesimo documento dei sogni, tutte promesse che sicuramente non saranno mantenute perché chi le propone ha la credibilità sotto i tacchi, noi siamo qui a occuparci dei problemi reali delle persone, dei problemi reali delle persone che sono attanagliate da questa agenzia che è immorale e ora Sebastiano vi spiega anche qual è la nostra proposta. Noi facciamo fatti e non raccontiamo parola, i fatti sono dimostrati dal deposito della nostra legge su Equitalia che sostanzialmente dice che tutti i poteri di Equitalia e le manzioni di Equitalia devono passare all'agenzia delle entrate, bisogna eliminare qualunque forma di agio, interessi, more, sanzioni sulle cartelle pregresse, al posto di queste sovrattaste, chiamiamole così, va applicato soltanto un unico tasso che è quello dell'Euribor a 12 mesi, dopodiché tutti gli ex dipendenti di Equitalia passeranno all'interno dell'agenzia delle entrate attraverso ovviamente un concorso che riserva al 50% di loro una quota privilegiata, dopodiché è facile, se le persone sono brave non avranno nessuna difficoltà a vincere il concorso per cui salviamo anche queste persone. Questo è per far ritornare in mano alla Stato una riscossione che deve essere più umana e non vessatoria come quella di Equitalia. Per fare questo però, per abolirla, dobbiamo farlo insieme, quindi vi chiediamo di scrivere a questi indirizzi, di scrivere e chiedere al Presidente del Consiglio di fare qualcosa di concreto per i cittadini. Grazie a tutti per l'aiuto.